Ciao a tutti! Mi presento, io sono Federico e vi do il benvenuto a Maker in Garage. Finalmente, dopo tanto tempo ho deciso di abituire questo canale per condividere con voi questa mia passione e tutti i crati che andrò realizzati qui nel mio garage. Perché voi non lo sapete, ma fin da piccolino, quando ero così, sono sempre stato super riperaffascinato dal mondo del farcino. Bene, ora andrò a spiegarvi brevemente quello che vedrete nei miei video. Principalmente realizzerò lavorazioni con impegno. Un saluto. Un saluto. Un saluto. Però ci saranno anche protezione e lavorazione con macchina con d'oro numerico. E alcune volte inserisco anche le componenti del giochi. Cosa state aspettando? Iscrivetevi al canale e spuntate la campanellina. Così rimanete sempre aggiornati sui nuovi video dei nuovi progetti. Ciao a presto!